ma come si fa ma come si fa come si fa speravo di tornare con un video bello su youtube torno con un video bello dove sono contento di tornare su youtube no devo fare un video dove ho le palle girate per determinate notizie che mi arrivano ma leggo subito ragazzi intanto prima di partire con video vi saluto ragazzi volevo ripeto volevo tornare con un video bello e allegro ma così non è potuto essere come sempre ragazzi vi chiedo di farmi di farmi sentire tutto il vostro supporto con un bel mi piace iscrivendovi al canale ragazzi che dire arriva non c'è ancora l'ufficialità ma comunque la notizia clamorosa è stata data da gianluca di marcio tramite il suo profilo instagram ragazzi palermo dimissioni per allenatore baldini e per il e per castagnini che sarebbe il direttore sportivo lì ma perché ma perché praticamente ragazzi dalle indiscrezioni perché ancora sono delle indiscrezioni non c'è nulla di ufficiale ragazzi ma sapete quando gianluca di marcio da una notizia al 99,9% è vera io spero di fare questo video di pubblicarlo e poi mi arriva che era una fake news ragazzi ma non penso proprio sfortunatamente perché praticamente ragazzi dalle indiscrezioni che arrivano si pensa che il motivo di questa dimissione sia dato dal fatto che ci sia stato uno scontro tra la dirigenza e il mister baldini appunto perché il mister baldini è poco contento della situazione mercato gli acquisti che non sono arrivati ed è abbastanza un po agitato così ragazzi non so se la notizia è vera non so se le motivazioni c'è il motivo del per cui stanno avvenendo queste dimissioni sono vere ma a me non me ne fotte nulla a me non me ne fotte nulla cioè tu vai praticamente in serie b con una tifoseria con la migliore cioè con una delle con la tifoseria migliore che c'è stata in serie c e che ci sarà anche molto probabilmente in serie b perché ragazzi il 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 tifo che hanno che abbiamo fatto noi io compreso ma tutte le persone di palermo nei confronti della squadra in serie c ragazzi non si è mai visto non si è mai visto non si è mai visto siamo siamo inviati da mezza italia per il calore che abbiamo dato ai nostri calciatori che anche noi perché anche noi li abbiamo aiutati a salire in serie b adesso con un con un'atmosfera bella dove praticamente tu vai lì onestamente ragazzi non so se il palermo sarà potrà giocare per i playoff per la serie a non lo so ma comunque ragazzi il tifo fa è tanto hai riscattato brunori c'è stato il cambio di società perché se non era per il cambio di società brunori non te lo potevi permettere tipo 5 milioni quella va la juve io so da delle fonti che comunque alcuni acquisti perché mister baldini si pensa che voleva almeno un 6 7 acquisti che comunque io comunque so che la maggior parte di questi acquisti sono stati già fatti non sono stati ufficializzati per motivi burocratici ma comunque sono stati fatti quindi ragazzi a me non mi torna a me non mi torna se sono state queste le motivazioni ma ripeto a me non me ne fotte nulla se le motivazioni sono queste o se non sono queste sono solamente che tu in questo momento stai facendo una bella fa perché ragazzi la nostra è una favola c'è dalla serie di tu torni in sebi in un in un'atmosfera bellissima adesso tra quattro domenica tra oggi siamo mercoledì tra quattro giorni di andare a fare lo scontro e in coppetala con la reggiana reggina lama cavolo si chiama baldini esonerato e ma dico ma crisi oddio non lo so non lo so chi ti pigli adesso chi ti pigli baldini che ci ha portato ormai c'è stata c'era un'intesa con i calciatori ripeto e andava tutto troppo bene tutto troppo bene per essere vero poi così ragazzi punti in bianco un mio amico è stata a mandare mia notizia che mister baldini si è esonato ma ma seriamente ora ho letto la notizia infatti qua dice colpo di scena nel palermo sarebbero arrivati le dimissioni quindi ah non è stato esonerato quindi aspettate ragazzi scusate dimissioni vuol dire che si è dimesso lui è stato baldino a volersene andare allora ragazzi io non ripeto non so se le motivazioni sono veramente queste qui si parla di malintesi comunque sconti tra il mister e la società per comunque la situazione mercato non so se ripeto ragazzi se è veramente questa la motivazione non è questa però se i motivi sono questi io comunque dò ragione a baldini perché un allenatore vincente anche se senza le b ragazzi si vede anche in questi casi faccio un esempio con conte che allenava l'inter lì conte è un allenatore che vuole vincere non è che dice mi accontento del campionato no voleva delle voleva comunque nuovi rinforzi nuovi giocatori l'inter nonostante questo ha detto dice no io economicamente non lo posso fare in più vendi due colpi due dei due giocatori due dei giocatori più importanti della rosa se non i più importanti tra cui lukaku e akimi e ste ne va e conte dà le dimissioni li vedo se le motivazioni sono queste baldini ha fatto bene baldini ha fatto bene perché comunque baldini è normale che un allenatore un giocatore deve essere comunque sempre ambizioso e perché il palermo non deve sperare a salire in serie a però baldini avrà detto sicuramente dice io per salire in serie a ho bisogno di questi questi e questi e tu non me li puoi dare dice non posso farti miracoli e sicuramente non sto qui per giocarmi il campionato per arrivare a metà classifica e stare qui a pettinare le bambole io voglio vincere io voglio andare in serie a se tu non puoi darmi questi giocatori i miracoli non te li posso fare e quindi me ne vado quindi ragazzi ripeto se queste sono state le motivazioni io do ragione a baldini però ragazzi questa situazione non mi piace assolutamente tu te ne vai adesso tra quattro giorni a giocare con la regina in coppa italia senza allenatore andrei a giocare senza allenatore verrà il secondo non lo so verrà il quello della prima vera del palermo non ho idea di chi verrà a questo punto ragazzi perché non ci sono fatti i nomi e nient'altro perché ripeto non è stata una cosa premeditata dalla società ma è stato a quanto pare baldini a chiedere le dimissioni io prego che sia una fake news ma di luca di marzo ragazzi ha dato la notizia quindi penso che non sia una notizia falsa assolutamente no ragazzi che dire ovviamente se ci saranno aggiornamenti su magari che ne so viene ritirata la notizia o viene cambiato allenatore vi aggiornerò ripeto volevo tornare con un bel video ragazzi non è potuto non è potuto essere così come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace di iscrivervi al canale vi ricordo sempre che adesso riprenderò a fare i video quindi fatemi sentire tutto il vostro supporto in descrizione vi lascio il mio profilo instagram e niente ragazzi ci vediamo ad un prossimo video e sempre forza palermo bello ragazzi